Ciao raga, oggi il compleanno di Muro Ciao sono Marci, grazie per gli auguri Quello è Marci 2, inquadra Marci 2 per favore Marci 2 Raga, c'è una sorpresa che non vi voglio far vedere, ve la voglio vedere quando sarà accesa Non è vero, pubblicato già su Instagram No, maledetta Ma si riempiti Allora raga, oggi il compleanno di Muro e Marci le ha fatto un regalo Guardate, gli ho regalato questa Allora raga, compratela a Romics Questa parte la tagliere a mettere alla sua inizia Raga, comprate la mia maglia Aspetta, rifacciamola, rifacciamola Aspetta, aspetta, taglio Aspetta Raga, comprate la maglietta di Charlie Romics, mi raccomando Sì, sì, Charlie Compratela Charlie? No, prendete quella di... Quella che commenta ti ha taggato in una foto Di Matteo Fire Di Matteo Fire, ok Ok, raga, ce lo... Questo è il modem Aspetta, aspetta, aspetta Ma che cazzo... No raga, è entrato nel cellulare di Marci il modem Allora, prima specchettiamo il regalo in diretto Ah, in diretto in boxing? Sì, in diretto in boxing Ma che c'è, non me lo so No, no, io non so che cos'è Non me lo so cos'è Aiuto, mi sono incassata Vai Abbiamo... Non so aprire i regali Come non so aprire i regali? No, mi sono retta nei miei occhi, non lo so mai fare Partono... 40 grammi di coca Partono le scommesse nei commenti Che cos'è, raga? Allora, è lungo È piuttosto duro No, ma non è un dito Non è un dito Ora sono anch'io Marci Passamelo Non c'è un dito facile Che marci Non cambia il cazzo C'è un altro nodo Intanto Muro sta lottando con... Non sono da lontano Con che faccia guardi? Non sono da lontano questa Ma guarda che c'è la faccia più... Eh, ha la faccia più di me C'è la faccia più grande Sono anche da vicino questa Vai Vai Ma quanta carta c'è Ma quant'è buona Sentiamo, sentiamo Una candela per te l'avessi capito Fammi vedere il mio regalo dalla videocamera Ma che buon odore Non voglio ricordare il colore Dopo Piscio in bocca a Marco Non è uno scherzo epico Mi raccomando Quando Charlie vedrà questo pezzo Lo metterà come titolo del video Sicuramente è ieri di me Perché la vedo dopo Fiiiil Fiiiil No, non devi inquadrarlo Perché? Corri, cazzo, non mi mangio la cera Ma quindi sono... Aiutatemi ad accendere Ho provato una cazzo di candela Attenta che accendo con le dita No, muro Nooo 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 Dai, ma avevamo bene Mica, ma anche che ci sono Eh, avevamo tutte di accendere Scusa No, perché magari c'è Non so perché sono E aspetta Comunque Si chiamano Cornel Chianca Dove li abbiamo comprati Ok, vedoci Che stai lasciando i calchi Aspetta, aspetta Devo fare la ripresa stile Com'è che si chiama? Flycam Si, però vai Tanti auguri a te 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 Wuuu Grande Olè 118 118 118 118 Non mi permetti Aspetta, l'accendiamo adesso Ma cosa, vai Sì Cazzo, raga, che buono Bello Grande Grande Grande, auguri Si Sì 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 Scusate C'è puzza C'è puzza C'è puzza di malattia Oh, raga, se volete la password sta su quel coso Mi vado ad attaccherà Vabbè Raga, con il mio telefono perché non vuoi stare con me? Non so cosa ti ho fatto pompino Le state facendo Non lo abbiamo scoperto Niente Non so Niente 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 attacca nello Swiffer scusa ma ci devo farlo vedere hai visto? è tutto poi devo attaccare qua sotto altre luci poi dietro metti i paneli fondoserventi attacca aspetta aspetta cambia devi cambiare adesso con i tuoi vlog diventa tutto ancora molto più blu si hai visto Charlie Moon il mio wifi è questo ok grazie mille ma quando è che mettiamo un bit tipo qua? qua? qua sulla porta proprio così lo puoi spostare tipo se mi faccio se mi sto facendo il bidet del tramartina mi devo spostare a Milano ci sono pure i bidet a scomparsa tipo tu quando muovi la porta esce il bidet come i letti cioè faccio così e poi dal muro sulle palle però perchè fa a Milano le scopri di tutto è così che te le lavi io l'ho scoperto che ci sono i water bidet cioè il water poi si riempie di acqua ma che schifo ma ragazzi andiamo a mangiare dai eh infatti abbiamo fatto la foto cazzo è successo sopra qua? cosa? stiamo scherzando ma sei impazzito Marci? oddio muro di fiori oddio non mi ficcare la macchinetta nel naso nel naso? si però le immagini che si caricano hai visto Marci? quanto è bello quanto è bello a calma e mangiamo i cornetti cosa stai facendo? ma che cazzo? cosa stai facendo? Martina c'è questa qui che sta cercando il casting per la sua storia Martina vuole scriverle perchè è troppo bella che storia è? sono quattro ragazze youtuber e che in un modo madonna non lo metti su youtube dove lo devo mettere? allora raga adesso vi faccio vedere la nostra nuova connessione si dal mio computer non lo prende tutto perchè non ho collegato il cavo ethernet no scusa puoi farlo in diretta perchè non ho ma non hai collegato il cavo allora raga questo è il ping ok poi di download abbiamo soltanto 270 niente di che 270 niente di che poi abbiamo dei 20 in upload onestissimi tutto questo con la mia connessione adesso vi faccio vedere la mia perchè salvatela cioè raga questa è la mia connessione di casa da oggi non mi arriva tutto al computer perchè non ho il cavo ethernet direttamente al computer però io sono contenta allo stesso questa è la mia connessione di casa ecco questa è la connessione di casa di Marco e adesso vedremo quella di Marci quella di Marci è 383 aspetta mettila 383 026 e 40 di ping raga ma è la mia stessa connessione devo dire che è molto onesto è molto onesto è molto onesto c'è proprio il 4G Martina tu che hai con di connessione? non è come noi abbiamo il 4G di Milano tipo il tuo upload che è il mio download però di meno e il mio upload che è 070 bello facciamo facciamo il 4G di Milano però non c'è il 4G più ragazzi no 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 4G e basta ah ok vediamo ping 14 14 4G mmm cavolo mmm download ma sta andando abbastanza bene 55 secondo me l'app te lo supera no mmm però ci sta cosa sta tirando? 10 in up più o meno adesso voglio rubare una sedia ci sta ci sta no no quindi raga questa è la mia connessione nel telefono adesso invece c'è una donna nuda ragazzi io ho scritto guarda cos'era la persona adatta a te eh ho scritto questo nobody can drag me down nobody nobody no buddy no buddy can drag me no è un h è un h wow raga la descrizione è della ragazze della ragazze della ragazze si no ci sono un sacco di errori dibattiti calza è solo il caffè e la camicia allora pops georgia sarebbe appunto rivista lo so lo sai vero il mio piedoooo ciao mi chiamo georgia ho 17 anni sono rilog sono una youtuber sono alta 1,70 e magra ho i capelli ahahahah ora devo andare avanti castane e gli occhi neri i carattere sono rovati lo vedete quello? sono io a 30.000 like se facciamo a 35.000 like non ci credo mai nella vita che ti lasci veramente tanto 35.000 like quando è che li faccio? quando è che li fa? se li fa lo fai? si non tanto non ci arriva cioè ci arriva steppine a 30.000 like eh infatti leggi leggi ciao mi chiamo chiestene vivo a milano la chiesa è nostra conterranea sono alta e di fisico sono molto snella con i capelli colorati ma di origine biondi e le tette piccole ho degli occhi azzurrissimi sono bianchi sono timida stronza è censurato sono timida stronza e molto vendicativa alternativa alternativa vendicativa vendicativa alternativa vendicativa vendicativa sono molto alta e magra ma tutte uguali sono ho i capelli castani e occhi verdi sono molto timida e simpatica dolce è alternativa è un po' lunare ma questa c'ha una forza incredibile c'è nessun alternativo che schifo questa è com'è la ragazza che figa no eh vediamo charlie cosa ne pensi molto simpatica vendicativa simpatica sta cagando nessuno alternativa timida punk pov vendicativa c'è ragione ma che dov'è sembra una malattia no sembra che noia la narratrice tolla la periodica un elemento chimico i mene cosa? marci cosa? per questo video mi raccomando spero che vi sia piaciuto che ci siamo al prossimo video perché è tutto è finito il tempo di rec zia non è più tempo non è più minuti ci vediamo al prossimo video per questo video mi raccomando lasciate like tutti i commenti iscriviti ciao Kirstiene la bam la bam